Devo ringraziare il mio lato B, le occasioni capitano a tutti, la fortuna sta nel riconoscerle. Così Michelle Hunziker si racconta a GQ che le dedica una copertina a un servizio con immagini super sexy in cui la showgirl posa in lingerie e ricorda il suo debutto come la donna del lato B di una nota marca di abbigliamento intimo femminile. Aggiungendo non mi sono mai tirata indietro davanti alla fatica. Ad aiutarla racconta Michelle a teatro in queste settimane con Mi scappa da ridere l'educazione elvetica, la tempra svizzera ai 27 gradi sotto zero e l'educazione sportiva che ti rendono competitiva come una bestia. Anche se poi l'Italia ha fatto il resto sgretolando un po' la rigidità miteleuropea. Adesso Michelle vive il suo momento di gloria professionalmente e sentimentalmente dopo aver ufficializzato la sua relazione con Daniele Pecci. Anche se poi dice di non avere ancora capito nulla degli uomini, se non che non c'è nulla da capire, bisogna prenderli così come sono. Adesso. Adesso. Grazie.